Viviamo un'epoca antipolitica e poiché la politica che noi italiani conosciamo da quasi 80 anni a questa parte è quella democratica, dovremmo concluderne che viviamo in un'epoca antidemocratica? Per quanto grande possa essere lo scontento rispetto all'attuale situazione politica e anche rispetto a come da tempo funzionano le regole e le prassi democratiche non credo proprio che la grande maggioranza dei cittadini rinuncerebbe alle libertà individuali e ai diritti sociali che sono forma e sostanza delle nostre società. Eppure, guardando le tv e scorrendo i commenti sui social media, siamo come investiti da un'onda tumultuosa di proteste, sospetti, falsi ragionamenti sempre più scomposti, feroci, primitivi, incolpevoli, i sondaggi d'opinione registrano, interpretano e guidano le mosse dei politici che vivono alla giornata guidati dai bliche e dai tweet. La loro bussola è piacere, non guidare. La gente dice, ma cosa vuole questo Zelensky? Faccia la pace con Putin e non rompa le scatole, o, anche, ma che centriamo noi con l'Ucraina? S'arrangi. Oppure, blocchiamo le bollette altro che inviare armi agli ucraini. E, ancora e ancora, e se Putin s'arrabbia e ci manda la bomba atomica? Si potrebbe continuare a lungo col repertorio dei luoghi comuni, dei sentito dire e degli umori della gente. La gente, si sa, ce l'ha coi politici, vuole essere ascoltata, è convinta che la democrazia consista nel fare quello che il popolo vuole. E se il popolo vuole la pena di morte? O la persecuzione degli ebrei? Dei neri? Degli omosessuali? O l'abolizione delle tasse e festa tutto l'anno? Questa è demagogia, e anarchia, non democrazia. La democrazia dei moderni è fatta di limiti e di separazione tra i poteri, uguaglianza nei diritti fondamentali, parlamenti e governi eletti dal popolo secondo regole e scadenze. Dunque, come stabilisce la nostra Costituzione, il potere e la sovranità del popolo si esercita nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi. In questi limiti sono compresi anche i trattati internazionali che abbiamo liberamente sottoscritto e le conseguenti limitate cessioni di sovranità verso l'ONU, la NATO, l'Unione Europea che non cancellano ma tutelano le nostre libertà.